buongiorno ragazzi buongiorno e benvenuti ai pronostici della 26esima giornata di serie alla scorsa purtroppo abbiamo persa per due partite abbastanza semplici semplici sulla carta perché poi le partite vanno giocate però abbiamo cercato sia milan che juventus non sarà facile indovinare i risultati con questo milano questo juventus alto allenante però ci proviamo anche oggi pronostici appunto della 26esima giornata giochiamo già stasera come sempre scusate se video non uscirà un giorno prima ma ieri tra il recupero della lazio la roma che giocava in coppa minaco giocava in coppa non riusciva a farci cimbrare anche il pronostici perché poi le fitte a un certo punto fanno non partono più youtube ne ha solamente tre e quindi sono arrivando non mi arriva la notifica comunque di nuovo il video in generale proprio che vi uso non so neanche se partirà la feed per sto questo video qua perché nell'arco le 24 ore non sono passate in registrare il milan alle 20 e qualcosa farò tre video quindi vabbè vedremo comunque la prima alle ore 20 45 stasera ed è bologna verona il verona ragazzi è una di quelle squadre che deve far punti per la salvezza e ultimamente comunque tra pareggi pareggi anche con delle bighe tipo come la juventus qualcosa sta ottenendo certo che il bologna in questo momento uno stato di forma clamoroso gioca anche in casa e comunque gioca a calcio meglio della juventus nonostante poi al livello di rosa sia inferiore gioca a calcio bologna quindi secondo me alla fine vinceranno vinceranno quindi metterei uno fisso bologna ragazzi domani alle 15 invece abbiamo sassuolo e empoli e qui o il sassuolo fa i punti i punti come si devono i veri punti che contano qui in questa sfida ragazzi oppure il sassuolo veramente quest'anno retrocede perché veramente non stati facendo un punto ci sono a legge emilia contro una squadra abbordabile tra virgolette come l'empoli perché comunque da quando c'è nicola l'empoli è imbattuto però secondo me domani nicola subirà la prima sconfitta e il sassuolo finalmente troverà i tre punti dopo una vita dopo una vita e quindi respire respira un po l'aria fresca in campionato quindi direi uno fisso per il sassuolo mentre invece passiamo alle ore 18 che c'è salernitana monza a salerno io onestamente la segna di liberani ragazzi l'ho vista ancora peggio di quella di inzaghi deve essere sincero e questa cosa qua non mi porta per niente a dire uno fisso 1x per la salernitana ma anzi piuttosto direi x2 monza x2 monza perché comunque il mondo ha avuto anche una prestazione convincente contro il milan e alle ore 20 e 45 abbiamo genua udinese qui ragazzi non ho dubbi il genoa marassi secondo me farà i tre punti quindi io metterei uno fisso per chi non se la sente che non si fida può metterci anche la doppia chance 1x perché comunque un pareggino visto che l'udinese è la squadra che pareggia di più in campionato potrebbe anche uscirci però sicuramente il genoa in casa non perde quindi o 1 se vuoi trattare un po la quota oppure 1x che ci può pur sempre stare passiamo invece adesso a domenica oreo di pranzo 12 e 30 juventus frosinone manco a farla apposta se non sbaglio al ritorno a frosinone si gioco comunque sempre all'oraio di pranzo quindi non si pranzerà quel giorno con la nervosa che mi farò perché sicuramente vi verrà da vomitare ragazzi non so da dirvi l'ultima volta che ho detto due fisso juve abbiamo fare un pareggiato stavolta siamo anche in casa non mi auguro che a meno in casa la juventus torna la vittoria lo spero evito uno non vi fidate di perché sono tifoso però al regolare di logica ripeto non vinciamo da un po' siamo in casa contro un frosinone mi auguro che la juventus possa vincere metto uno fisso poi in questo caso dicete vuoi la giocata perché su un tifoso sono fazioso e magari il gioco non vale la candela alle ore 15 abbiamo invece cagliari napoli è una trasferta insidiosa cagliari poi il napoli giocato anche in champions forse fresche comunque non tante ne ha c'è un allenatore che devo ancora inquadrarlo onestamente io metterei x2 napoli ci metto anche il pareggio perché non sono così convinto che il napoli vada a vincere a cagliari però occhio perché trovato osimène e osimène in campionato è mancato tanto perché alla prima occasione che ha avuto in champions ha fatto gol quante occasioni ha avuto il napoli in campionato e senza victor osimène non le ha concretizzate con lui secondo me arriveranno molti più gol davanti comunque x2 secondo me ci può tranquillamente stare non credo che il napoli perda proprio a cagliari quindi la doppia chance ci può stare per chi per chi osa rischiare e vuole alzare un po la quota può anche mettere due fisso per carità ci potrebbe stare alle ore 18 c'è lecce inter e per quanto lecce comunque aveva del mare una trasferta insidiosa per quanto l'inter abbia giocato comunque contro l'atletico e poi giocherà contro l'atletico quindi nel senso l'inter è una squadra che ultimamente gioca tanto quindi magari potrebbe anche essere leggermente stanca fisicamente per me l'inter vincerà quindi due fisso per l'inter senza perderci troppo in chiacchiere e alle ore 24 5 abbiamo un bellissimo milan atalanta un milan che ultimamente i ragazzi prendono un sacco di gol atalanta che invece in uno stato di forma clamoroso io tra le due ragazzi metterei x2 atalanta cioè per come l'atalanta può vincere contro questo minano a san siro se non vince pareggia oppure come giocata alternativa che mi sembra quella un po più scontata ma anche più 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 ovvia il gol perché comunque l'atlanta un gol al minano con questo minano che prende gol a tutte le parti secondo me lo farà e il milan anche potrà comunque segnalata l'alta in casa quindi un bel golletto ci può anche stare che forse anche portato leggermente di più dell'x2 non lo so però anche un gol lo si può giocare e passiamo poi lunedì dove giocano le due romane che ha giocato ieri ieri comunque una in coppia una recupero la prima alle 17 30 che è roma torino e il torino che arriva da una sconfitta brutta con la lazio ieri perché ha giocato molto bene a calcio ma poi alla fine ha raccimolato veramente poco perché ha perso la roma che invece passa un turno fino ai rigori quindi le forze ragazzi sono state tante sprecate da parte della roma perché comunque 120 minuti ti spaccano le gambe però se comunque in casa anche in sto caso e penso che la roma possa vincere quindi metterei uno fisso per la roma e alle 20 45 abbiamo fiorentina lazio la lazio a firenze una fiorentina che sta un po bacillando ultimamente hai bisogno di fare un po di punti in campionato e magari perché non fare proprio contro la lazio in casa la lazio che arriva da una vittoria comunque gli di recupero col torino la trasferta insidiosa però comunque non ha subito gol sono riusciti a vincere complimenti a loro io qua anche ragazzi mi giocare un gol perché secondo me essendo che la fiorentina gioca in casa un gol alla lazio lo può fare ma allo stesso tempo anche la stessa lazio può segnare alla fiorentina quindi secondo me la giocata migliore anche in questo caso è un bel gol e ragazzi questi qua sono i miei pronostici per quanto riguarda la ventiseesima giornata di serie a fatemi sapere questo nei commenti i vostri personali se da quello con me oppure non la presenta un'altra diversa ma comunque scrivete questi commenti così poi ne parliamo ci confrontiamo lasciate un bel like se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato così ogni volta che sta per iniziare la nuova giornata io vi porto il video dei pronostici sul supporto e soprattutto ragazzi anche se piacere l'iscrizione al canale che è fondamentale non costa nulla e per me lo trovo sul supporto basta clic su iscriviti e siete iscritti fa ringrazio di cuore condividete anche il video con i vostri amici con loro e attivate anche a cambiare notifiche così non perdete possibile usciranno in descrizione anche link e le borse di channel e link anche degli altri social qui si deve seguire su twitter su instagram su tiktok su facebook e ci avete tutti link in descrizione per me a supportare anche negli altri social per il resto direi che abbiamo detto tutto ragazzi qui dalle bianche nero appunto è tutto bella